Allora, siamo qui con Giorgio Cecere, autore di Azienda Automatica, che in poche ore è diventato best seller numero uno su Amazon. Giorgio, come ti senti? Guarda, sono contentissimo, sono orgoglioso e ti ringrazio già, perché credo che questo sia un ottimo risultato per Smart Business Lab, che è l'azienda che gestisco e credo che finalmente, dopo cinque anni, Smart Business Lab meritasse un libro che è già numero uno nelle classifiche, nei vari store su Amazon. Quindi sono molto contento, sono molto orgoglioso, anche perché tutti quelli che lavorano all'interno di Smart Business Lab meritano tutti quanti questo traguardo. Bene, ottimo e tu sei amministratore delegato infatti di Smart Business Lab, aiuti gli imprenditori ad automatizzare le proprie aziende e hai deciso di scrivere un libro per condividere queste strategie. Ci puoi raccontare qualcosa di questo libro? È un libro che consiglio a tutti perché all'interno c'è esattamente la panoramica del metodo di Smart Business Lab, quindi è un metodo che da più di cinque anni lo abbiamo utilizzato e strutturato a più di duemila aziende italiane in qualsiasi settore. Ci sono normalmente, non è nel libro, ma devo anticipare, abbiamo 40 strumenti e delle strategie specifiche ad hoc per ogni azienda, per ogni settore. Ti faccio alcuni esempi, quindi strutturiamo le procedure aziendali a prova di talento e strutturiamo cruscotti di comando, strutturiamo anche un marketing strategico per le aziende, quindi all'interno ci saranno assolutamente queste strategie, queste nozioni e poi i due bonus fantastici che sono le interviste ad Alfio Bardolla e Roberto Re. Ecco, questo è molto interessante perché poi l'esperienza degli imprenditori è la prima che può aiutare altri imprenditori. Se un professionista, un imprenditore legge il tuo libro, poi si può comunque rivolgere direttamente a te per un aiuto personalizzato? Assolutamente sì, è il nostro core business perché noi lo facciamo da più di cinque anni e diciamo che chi è curioso ed è alla volontà di fare quel salto in azienda, quindi di voler crescere, di voler automatizzare l'azienda, migliorare i propri risultati, ma anche il suo stile di vita, può contattarci perché noi abbiamo tranquillamente un incontro one to one con l'imprenditore di circa 3-4 ore, veramente tra l'altro adesso è in un'offerta promo irresistibile, rinunciabile, specifico e personalizzato per l'azienda del nostro cliente, quindi dell'imprenditore. Ottimo, ottimo, bello, mi piace la concretezza e la praticità, quindi subito dal libro si passa a una consulenza di questo tipo che è la cosa migliore per aiutare chi è in difficoltà o chi vuole migliorare sicuramente il proprio fatturato. L'ultima domanda, Giorgio, allora tu hai deciso di scrivere un libro per condividere queste tue strategie, perché hai scelto Bruno Editore per pubblicarlo? Sono due le motivazioni principali, la prima ho fatto da imprenditore e anche da manager dell'azienda, ho fatto le ricerche di quale potesse essere il fornitore più adatto alle strategie dell'azienda e quindi con molta tranquillità e trasparenza ti dico che meglio di Bruno Editore non ho trovato nessun altro. E poi sicuramente conosco te anche da un po' di tempo e quindi so come lavori, so il livello di professionalità e serietà che metti nei tuoi progetti e questo mi ha dato quella ciliegina sulla torta per dirmi è l'azienda giusta e il fornitore giusto. E devo dire che la mia analisi, il mio pensiero non mi ha smentito perché è il primo giorno in cui siamo pubblicati, siamo primi su Amazon Italia, voglio dire credo che sia il risultato che conferma quel pensiero lì. Bene, bene, grazie mille Giorgio Cecere, vorrei dire alle persone che ci stanno seguendo in questo momento di andare su Amazon e cercare azienda automatica. Giorgio Cecere, perché può essere veramente di grande ispirazione per qualsiasi imprenditore e magari può essere lo spunto per iniziare un percorso per automatizzare la propria azienda. Quindi grazie a tutti e grazie Giorgio per essere stato qui con noi. Ciao! Grazie a tutti, ciao a tutti!